Buonasera e vi ringrazio di essere qui con noi. È un piacere. Quali sono le cose che voi ritenete più interessanti nella vita? Più interessanti? Sicuramente viaggiare. Viaggiare è molto importante, sa? Direi che è terapeutico, guarisce dalle malattie, da tutte le malattie. Quali sono le persone che vi piace frequentare maggiormente? Ho due carissimi amici dai quali non mi separo mai nel tempo libero e ho anche un cane che si può dire che sia come un terzo amico. Avete dei progetti per il futuro? Certo, c'è uno di questi cari amici di cui le parlavo che conosce praticamente tutte le birrerie e le taverne del paese in cui abitiamo, per cui mi affiderò certamente a lui. Vi ringrazio per aver risposto così sinceramente.